Dell'incrocio tra riaperture e covid, parleremo stasera con Massimiliano Federiga, presidente della conferenza delle regioni. Non c'è subito la mezzanotte che avevate chiesto voi, però insomma mi pare che possa andar bene, dai, questo gradualismo. Che dice? Penso che l'ultimo decreto sia un importante passo avanti. Non c'è dubbio, sono stati ascoltati molto anche i suggerimenti arrivati dalla conferenza delle regioni in questo decreto. Penso che ci siano ancora delle cose da migliorare, penso all'apertura delle piscine al chiuso, penso appunto al coprifuoco che potrà magari avere una gradualità rispetto a come si evolverà da qui alle prossime settimane la situazione pandemica. Però non posso sottolineare la soddisfazione che tutte le regioni hanno avuto perché abbiamo sempre cercato di collaborare in senso costruttivo, conoscendo anche le esigenze del territorio e quel mix che è necessario creare in questo momento tra sicurezza sanitaria che è fondamentale, ma anche una riapertura di attività e lavoro. Presidente Federica, anche lei che ha sott'occhio alle regioni ritiene che sia realistico raggiungere questo numero, che è un numero elevatissimo, insomma 20 milioni di persone in un mese è un numero straordinario. Guardi, le regioni hanno messo in campo una parte organizzativa poderosa, perché dagli hub al personale, alla distribuzione all'interno delle regioni, e quindi penso che da quel punto di vista ci siano tutte le possibilità per raggiungere quel risultato. I vaccini stanno aumentando nella disponibilità sempre di più, c'è stato un cambio di marcia importantissimo e quindi quelli ci sono. Io sono preoccupato per il terzo fattore che serve per un successo della campagna vaccinale, l'adesione delle persone alla campagna vaccinale stessa. Cioè una campagna successo, sai i vaccini, sai chi fa i vaccini e sai chi aderisce alla campagna. Io sto vedendo che purtroppo in alcune fasce di popolazione, da me per esempio, sicuramente c'è una ritrosia rispetto a quell'80-85% di adesione che vorremmo auspicare per riuscire a raggiungere presto una copertura importante. Per questo anche l'apertura che condivido, che ha fatto figliuolo a nuovi target, ha permesso di andare avanti con la campagna con numeri importanti. Da me, se non avessi aperto ai cinquantenni, ai quarantenni, avrei il rischio di avere i vaccini, di aver organizzato una macchina incredibile che riesce a fare. Noi superiamo giornalmente il target dato dal governo come capacità vaccinale, ma avremo il rischio di non avere quei posti riempiti da chi si vuole vaccinare. Quindi è importantissimo quello che insieme possiamo fare, penso che questo dobbiamo essere tutti i protagonisti, per far capire l'importanza alle persone di vaccinarsi. Presidente Federica, come mai ci sono questi buchi? Ci sono più fattori. Una parte è quello che dicevamo, l'adesione. Se uno non vuole vaccinarsi, non è che gli può inseguire di notte per fargli l'appuntura di nascosto, scusate la battuta, però quello è un passaggio. Il secondo fattore è anche il tipo di vaccino che si utilizza. Per esempio, come sapete, è consigliato per gli over 60 utilizzare AstraZeneca. A AstraZeneca, quindi, uno organizza un'agenda vaccinale in relazione alle disponibilità del vaccino. E può succedere che magari uno vada fra una settimana perché si sa che arriveranno le dosi necessarie per fare il vaccino e per fare i richiami necessari. Però di fatto tutti quelli che hanno prenotato e ovviamente quindi hanno aderito alla campagna nelle regioni o hanno già avuto il vaccino o nei prossimi giorni o prossime settimane hanno l'appuntamento per farsi il vaccino. Cioè non è gente che sta aspettando perché nelle regioni non riescono a dargli il posto. È una campagna organizzata, come capirete bene, fare un'agenda vaccinale. Con l'incertezza che c'erano fino a poco tempo fa dell'arrivo e di che tipo di vaccino doveva arrivare è stato molto molto complicato. Adesso fortunatamente con più vaccini si possono fare le cose in modo più spedito perché non è soltanto avere il vaccino per iniettarlo, ma è un'organizzazione poderosa che c'è dietro. Voi capite cosa vuol dire avere l'agenda, avere chi vaccina, distribuire i vaccini, avere i volontari negli app vaccinali, dire quanti vaccini e quali devono andare nei diversi app. Cioè non è che uno diceva il vaccino, prego tieni e prendilo. È un'organizzazione complessa e senza la capacità di poter programmare perché fino a poco tempo fa non sapevamo quanti vaccini, ma soprattutto quando arrivavano era estremamente difficile e di questo devo ringraziare l'ottimo lavoro del commissario Figliuolo che insieme alle regioni è riuscito a mettere in campo un'organizzazione che può dare un po' di prospettiva.